Ad aprire la prima delle due giornate austriache del governatore altoatesino, l'incontro con la vice cancelliere Michael Spindelegger, alla presenza anche del governatore del Tirolo Günther Platter e dell'Hobmann della Stella Alpina Richard Theiner. Tra gli argomenti affrontati, anche le implicazioni dell'eventuale doppia cittadinanza italo-austriaca per i sudtirolesi. Durmalder ha consegnato al ministro il parere giuridico elaborato dal costituzionalista Walter Obwexler. Sulla grazia per i cosiddetti attivisti sudtirolesi degli anni 60, Spindelegger ha riferito di averne già accennato al suo omologo italiano Fartini e che ne riparlerà ancora con il collega della Farnesina. La doppia cittadinanza, poi il diritto di autodeterminazione, cioè l'applicazione, poi abbiamo parlato della toponomastica, poi abbiamo parlato della grazia per gli attivisti degli anni 60, e poi abbiamo parlato dei rapporti tra Roma e Bolzano. Credo che abbiamo discusso a lungo e abbiamo trovato, cioè abbiamo dato un'informazione da parte nostra, abbiamo sentito anche le risposte da parte del ministro agli esteri e del vice cancelliere. Per quanto riguarda la doppia cittadinanza, lui dice, io adesso prendo questa relazione, sì d'accordo, però adesso io devo chiedere altre relazioni, perché anche in Austria non tutti sono dello stesso parere, dobbiamo approfondire la situazione giuridica. Io sono disposto ad examinarlo, per quanto riguarda invece il diritto di autodeterminazione, è difficile dirgli un contratto se non viene leso, cioè se viene rispettato, e perciò lì sarà difficile chiedere l'applicazione immediata del diritto di autodeterminazione. Secondo Summit, quello di Durmalder, con il capo dello Stato austriaco, Heinz Fischer. È stato ribadito in questo vertice che Presidenza e Governo austriaco seguono sempre con grande attenzione l'evolversi dell'autonomia altottesina. Anche il governatore del Tirolo, Plattner, presente a tutti e due gli incontri, ha ribadito il sostegno di Innsbruck alle tematiche affrontate.